per la ricetta di juicy mi serviva il cumino in polvere ho trovato quella in semi perciò con il mio piccolo mortaio lo vado adesso a ridurre in polvere mettiamo del datterino giallo e rosso dentro al forno un pizzico di sale un po di pepe e un po d'olio di quello buono allora dopo averle lasciato in ammollo per 24 ore mettiamo le nostre fave secche a cucinare aggiungiamo acqua che deve essere il doppio delle fave perciò le deve coprire e deve salire per il doppio già così va bene e mettiamo all'interno sale pepe poco perché poi ci andranno gli aromi suoi e olio accendo il fuoco e lascio cucinare per 30 minuti abbiamo fatto cucinare le nostre fave adesso gli diamo una frullata e dopo di che a parte continueremo la cottura mettiamo a soffriggere tre spicchi d'aglie ora dopo aver messo laio mettiamo la nostra purea di fave e dopo di che aggiungiamo un cucchiaino di comino un pizzico di pepe e un pizzico di sale facciamo insaporire per almeno cinque minuti l'abbiamo fatto insaporire adesso mettiamo tutto all'interno di un boccale andiamo ad aggiungere i pomodori che abbiamo cucinato nel nostro forno e andiamo a frullare il tutto andiamo a chiudere il nostro robot e avviamo il nostro full madamas è pronto mettiamo del prezzemolo fresco un filino d'olio io metto anche un po' di pepe e i nostri crostini all'interno uno e due giusi la nostra ricetta egiziana è pronta spero che sia venuta buona ma sicuramente è venuta buona grazie suggeritemi un'altra ricetta o se avete un amico egiziano condividete questa ricetta perché è veramente buonissima grazie grazie